Ricordate che all'inizio si consigliava di non uscire di casa, siamo arrivati ora alla situazione in cui non si può per legge uscire di casa. Se c'è una logica in tutto questo, si potrebbe allora forse sospettare che ora ci consigliano di non utilizzare troppo la rete, di non sovraccaricarla, per poi domani imporci di non sovraccaricarla, di fatto chiudendo, come dicevi tu, alcune fonti, chiudendo alcuni video che sono particolarmente pesanti, o semplicemente dicendo che nella condizione d'emergenza va limitata all'uso del personale medico e di chi si occupa dell'emergenza e non dei singoli cittadini. Del resto tu stesso hai riportato quella fonte, io me ne ero segnate parecchie che ho discusso anche sul mio canale YouTube, ad esempio cito da milanobits.it, ormai sempre più a rischio di blackout per via del coronavirus, poi Corriere.it diceva boom di connessioni, la rete è sotto pressione, Repubblica.it diceva coronavirus, l'allarme dei provider internet, rischio di non riuscire più a garantire i servizi. In sostanza è lecito credo dubitare ed essere scettici, se domani o dopo domani ci troveremo senza connessione, cosa che spero non avverrà, sapremo che il motivo ufficiale sarà quello che la rete era satura e sovraccarica. Ma naturalmente permarrà in noi che siamo apoti, cioè non ce la beviamo, sopravviverà in noi il dubbio che qualcuno abbia deciso per convenienza oggettiva di tirare giù la manopola e di limitare la diffusione internet, evidentemente. Per l'ovvia ragione che le uniche informazioni non allineate che stanno circolando, è un dato di fatto, stanno circolando tramite la rete internet. In fondo se voi guardate i programmi televisivi su tutti gli schermi, o se leggete i rotocalchi patinati, o i quotidiani mondialisti, vi accorgerete che vi è una sorta di uniformazione dell'informazione, come sempre. E in più si parla sempre solo del famoso pipistrello, si parla sempre solo dell'arcobaleno con la scritta speranzosa, l'Italia ce la farà andrà, tutto bene. Si parla sempre solo dei canti dai balconi e dell'ebete euforia di chi giubilando intona come bello far l'amore o azzurro. Ma non si parla mai di tante altre questioni che invece il giornalismo serio, a mio giudizio, avrebbe tutto il dovere di segnalare. Ad esempio il fatto che l'Unione Europea per noi non ha fatto letteralmente nulla, anzi si è comportata come chi dinanzi a un naufrago, anziché lanciare un salvagente, lanciasse un incudine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.